a lesbica a lesbica ma succhiamelo non sa guidare vieni qua vi ammazzo io vi ammazzo io vi ammazzo io bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo video sono favij e oggi siamo tornati su bella di 13 con un ospite di eccezione quale pietro ciao pietro allora io ti faccio notare subito che a parte il fatto che non hai parlato e ma va bene così che zitto mi sei più simpatico da zitto c'è una che si chiama veronica cucacocco cucamonga ti spiego questo gioco qua come puoi vedere dal caricamento è un gioco di carte carte va bene si gioca a 1 a 1 vince chi è che mette l'ultima carta vinto ok allora io sono una bella figa c'è una macchina non ci picchiamo che ci leviamo da no c'è una macchina qua vicino ok tanto siamo uguali come ti permetti brutta tr***a di indossare i miei vestiti vai da zara come stagliere con il mio ragazzo è p***a mi fai malissimo ma io che ci stiamo facendo male che il tratto arriva jason c'è una porta ecco eccolo jason ecco aiuta no 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 cos'è entrato è entrato veronica cucacoco cucamonga spara aspetta io devo resistere con questa che c'è al fucile perché se no io sei già acchio acchio tizia uccidilo dove sei uccidilo veronica perché non l'ho ucciso vai 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 veronica vai veronica giù sotto veronica all'altra troia è morta dove sei morto qui a sinistra mi vedi eccomi se questa non esce ma che cazzo mi chiudi la porta in faccia va vai tanto il tuo vestito faceva schifo aiuto aiuto dove la tracinando veloce oddio aia aia salvami veronica veronica oddio mi sono liberato mi sono liberato come hai fatto non lo so corri prendi la macchina ma che macchina devo ripararla ma io ho un tronco e ti inculo per l'altra parte perché c'è l'altra parte non ti vedo sono capace non sono capace aia aspetta ti spiego ti spiego gli spiedini si fanno così quindi non possiamo essere giovani noi non credo perché non lo sono mai stato sarebbe impossibile lori no non è vero te lo giuro ma non puoi essere giovani cosa devo fare ma non puoi essere giovani te lo giuro ma allora si può fare in gruppo giovani e cosa devo fare io vieni a prendermi figlio di tuttana vieni qui non ti vorrei dare dei consigli ma allora sarai stronzo ti ho beccato sono dietro di te affrontami uomo affrontami sul chiamerò ma cos'è sta roba vieni qui pezzo di merda che cazzo è resbiga vieni qui corri nella foresta corri vieni qui pezzo di raga pietro è il cattivo è diventato il cattivo ho trovato la batteria mamma te le dovrei dire queste cose amici aiutatemi aiuto amici e non vieni che ci stanno gli amici e dove stai sei sparito aiuto ma che rampeggia tutto vieni qui amici aiuto amici amici ma che scappate oh ah ma tu sei lì davanti troppo io sto scappando verso di te occhio ma per cazzo un coglione non hai mai visto una tipa con le sue cose è stato bello eri tu? no lo ha detto che è successo? come? ma che sono uscito? no ma no ma no ma no non pensavo che ti facesse uscire ma scusa ma se esco io ti fa uscire e stiamo in porti ma scusa non avevo idea ho fatto vincere quattro persone oh no ma non è l'unico gioco della vita dove se esce uno esce pure l'altro ma non ho capito vabbè eh ho salvato quattro persone e sono una persona sei uno stronzo grazie ok siamo tutti due qua allora innanzitutto vediamo dove siamo vicino alla macchina vicino alla macchina chiamilo subito ho detto chiamilo e lo trovate ecco ah ah dietro l'ora girati girati mi scarico nel cesso aia vai scarica 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 dalla finestra ma che finestra eh salve aia aia scappa oh mio dio no non ci credo non ci credo ma che cazzo di posizione avevi oh aia ah 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 siamo morti tutti e due come delle belle zozze oh la madonna che si è successo aia siamo sulla macchina sono qua sono qua qua c'è un altro posto c'è un altro posto no 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 siamo fu siamo in quattro l'ora eh ammazzati fermati c'è posto mi metto nel bagagliaio I I enter in the bagagliaio stop thank you ma fa culo alesbica 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 ma succhiamelo non sa guidare vieni qua vi ammazzo io dai vi ammazzo io vi ammazzo io vi ammazzo io veloce 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 scappa adesso 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 accendi accendi e scappa veloce Veloce vai Veloce Vai No No Non ci credo No non ci credo Eh la madontina Cosa E' così facile Eccolo qua Ciao stronzo Ah non sei Ok non sei tu Niente La tonica no E' in giro la tonica no? Può essere solo in giro la tonica Ok scendo vai esco Arrivo 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 Occhio Porca vacca Li sono sfuggito di brutto Entra entra No non qui Chiudi la porta No non portarcelo qui Togliti Porca vacca Che fastidio Mica dai una parola Ammazzala questa Perché la tipa Perché questa qua Deve avere dei problemi al cervello Perché viene da me Ma fatti una vita Comunque io spero Che tutti gli altri Stiano facendo il cazzo che vogliono Visto che Jason Ce lo stiamo lavorando noi E' molto vero Come sempre Spero perché Boh l'ho colpito L'ho stannato Bra Bra L'ho buttato giù Però porca vacca Avevo solo sto colpo Volevo tenermelo Macchina 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 Ehi 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 Che c'è? Una macchina è partita Ma com'è partita? Adesso ragazzo Come back Fermati Come back Save us Ma dai Ma dai Ma che pezzo di merda Mentre noi ci lavoravamo Jason Ha preso tutti gli oggetti Ha riparato la macchina Ed è fuggito da solo Che pezzo di merda Cioè noi ci siamo lavorati Tutto Jason Questo ha preso Mentre noi ce lo lavoravamo Ha preso i pezzi Si sei andato Ma dimite che stronzo Troviamo la tanica Andiamo c'è neanche noi Dai ti prego Ce la meritiamo Questa partita Mi ha fatto tutto noi Come ce la meritiamo Vai 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 Porca vacca No 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 Mi ha preso No 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 Mi ha sparato un tizio Non mi ha ucciso C'è ne ha sparato mio amico Davvero Te lo giuro su dio Cioè senza prenderci con la macchina E là Occhio non mancarlo Occhio Tranquillo Lui sta facendo così Perché vuole schivare il colpo Porca puttana Hai preso il palo Ma che problemi hai Te la meriti sta morte Avevi un palo davanti Ti rendi con Ehi Ehi No no Non la lancia Non la lancia Yes Dai Dai Pezzo di merda Mi salta pure sto tifo Sta sfondando la porta Eccolo là Io Boh Mi fio Ah ho la tanica La tanica l'ho trovata Mancano solo tutti gli altri pezzi Ma figurati se qualcuno li cerca Non mi fido Esco Sei scemo? E scappa via Scappa Ok Buttati giù Ma si può Eh non lo so Buttati giù No non si può Corri 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 Ci sono solo io in questa zona Ma per quanto tempo sta fermo lui? Eh che ne so Nascondi il radio Eh vabbè Mancano due minuti la polizia eh Due minuti e basta mancano Ma tanto non arriva niente Come non arriva? Cosa arriva? Nessuno C'è già Come? Che senso ha? Eh non lo so Occhio C'è la trappola se vuoi Per dietro eh Dove dove? Vieni Vieni La batteria oh La batteria Non ci credo No ho sblocato la porta Porca puttana Sti comandi di merda Ok No niente Ma allora Eh no 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 Allora il ta Porca di una Porca Il tasto per piazzare la merda E che Io premo il tasto E Lo premo Lo premo Non funziona Che c***o Devo fare io Più di così Lo premo E non va Eh allora vaffanculo Ma tanto non posso Mi ha Mi ha Mi ha Prima di te Uccidere Sai che lo faccio? K Dai che ce lo fai? Live match Sono uscito Non gli ho dato la kill Non se la merita Va bene ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Noi concludiamo qua Ringrazio Pietro Per aver partecipato a questo video Come se avete se vi è piaciuto C'è un commento Mi piace Anche i miei social Cominio Tutta in descrizione Se non si è rischiato Ci vediamo al prossimo video Dai ragazzi Ciao